Formalmente si chiama Global Digital Asset Exchange ed è la piattaforma di trading di criptovalute che fa capo allo stesso gruppo di Coinbase. Ciao, sono Zan di Turulab.it e in questa video guida vedremo insieme come utilizzare G-DAX, uno strumento di investimento professionale per chi smanetta con le criptovalute che consente di inserire ordini limite e anche stop loss per massimizzare i nostri guadagni. Anche se non siete degli investitori professionali in tutti i sensi dovete assolutamente provare ad investire con G-DAX. Mentre Coinbase infatti impone delle commissioni veramente salate, su G-DAX gli ordini limite sono completamente gratuiti e privi di ogni commissione, quindi ci permette di massimizzare i nostri profitti. Seguimi! Prima di cominciare vi segnalo che seguendo il link che trovate qua sotto nella descrizione del video potrete raggiungere la guida testuale che abbiamo preparato su Turulab.it con tutti i link, i riferimenti e i passi da seguire in successione per iscriversi a G-DAX e cominciare ad acquistare tramite gli ordini limite e l'impostazione degli stop loss. Iniziamo registrandoci al sito Coinbase.com Se seguirete il link che ho messo qui sotto nella descrizione del video invece che andare direttamente sul sito riceverete un premio di 10 dollari in bitcoin al momento della registrazione e farete in modo che anche noi riceviamo 10 dollari in bitcoin. Utilizzeremo questa cifra per potenziare l'infrastruttura di Turulab.it Per la guida passo passo alla registrazione su Coinbase potete fare riferimento all'articolo completo che abbiamo pubblicato su Turulab.it Di nuovo trovate il link per raggiungerlo direttamente nella descrizione del video qui sotto Dopo aver completato la procedura di registrazione a Coinbase assicuratevi di collegare il vostro conto corrente e caricare non solo uno ma anche un secondo documento per validare la vostra identità Ad esempio io ho caricato sia patente di guida che carta di identità In alternativa potete usare anche il passaporto E qui armatevi di nuovo di santa pazienza perché come già visto nella guida specifica a Coinbase caricare il documento è sempre un'impresa veramente ardua Un po' perché i server sono sempre sotto sforzo Un po' perché evidentemente il sito non funziona troppo bene La soluzione migliore o quella diciamo così meno traumatica è utilizzare l'app per Android oppure in iOS Provate e fatemi sapere qui sotto come funziona Completate tutte queste operazioni siamo pronti a proseguire Per prima cosa collegatevi a Coinbase.com ed eseguite login tramite indirizzo email e la password che avete scelto al momento della registrazione Dopo aver completato il login a Coinbase.com collegatevi al sito gdax.com Una volta aperta la pagina cliccate Create account per creare un nuovo account Il sito riconoscerà automaticamente che siete già loggati e registrati a Coinbase e potrete quindi completare l'autenticazione su GDAX semplicemente cliccando un paio di volte su Avanti GDAX è uno strumento professionale e quindi l'interfaccia è un pochino più complicata rispetto a quella di Coinbase In realtà una volta capiti i fondamenti e le funzioni principali è davvero molto semplice da utilizzare Nello specifico troviamo qui in alto il menu per selezionare la valuta ovvero dobbiamo selezionare sempre una criptovaluta da acquistare quindi Bitcoin, Ethereum oppure Litecoin e la valuta diciamo così reale quindi quella fiat nella quale operare Per quanto riguarda l'Italia possiamo selezionare legalmente solo Euro quindi non possiamo scegliere i dollari Subito più in basso troviamo una voce dedicata ai bilanci depositi e prelievi Da qui vediamo a quanto ammonta la valuta che abbiamo selezionato in questo momento quindi quant'è il nostro bilancio in Euro e in criptovaluta quindi nella criptovaluta che abbiamo selezionato subito sopra dal menu Tramite deposit possiamo visualizzare le coordinate per aggiungere credito in Euro mentre tramite l'altro pulsante possiamo vedere come prelevare quanto abbiamo depositato sul conto Subito sotto abbiamo l'area principale per immettere ordini in questo caso gli ordini significa che possiamo acquistare oppure vendere criptovaluta pagandola oppure ottenendo Euro quindi la nostra moneta reale A destra abbiamo la coda di ordini di acquisto e vendita in particolare sopra abbiamo gli ordini di vendita quindi tutte le persone che stanno vendendo della criptovaluta mentre sotto abbiamo gli ordini di acquisto cioè le persone che stanno cominciando ad inserire ordini per comprare in questo caso una volta che il prezzo di vendita e un prezzo di acquisto coincidono ecco che ha effettivamente la trattativa e quindi viene effettivamente scambiata la criptovaluta ovviamente per quanto riguarda la vendita lo scopo è cercare di ottenere il prezzo più alto mentre per quanto riguarda l'acquisto è cercare di ottenere il prezzo più basso ovviamente nel centro pagina abbiamo questo bellissimo grafico che risulta molto utile a chi svolge analisi tecnica abbiamo infatti l'andamento dei prezzi nel corso del tempo tramite il menu che vediamo qui in alto possiamo scegliere il range che ci interessa visualizzare che può essere quindi da 5 minuti a una giornata intera possiamo vedere come sta crescendo oppure scendendo il prezzo in questa area abbiamo un grafico che ci mostra invece come stanno andando le vendite rispetto agli acquisti e subito sotto abbiamo i nostri ordini che abbiamo inserito quindi inizialmente non ce ne sarà neanche uno e che sono ancora in corso in attesa che appunto venga un'altra trattativa di vendita oppure d'acquisto che combaci come prezzo e quindi possa essere effettivamente immessa sul mercato ed evasa sulla destra abbiamo invece uno storico generale di tutti gli ordini presenti sulla piattaforma di tutti gli ordini di tutte le trattative che stanno effettivamente andando a buon fine dopo aver completato la panoramica dell'interfaccia grafica possiamo concretamente caricare euro sul nostro conto ovvero dobbiamo effettuare un bonifico verso l'Iban di GDAX impostando come causale del bonifico questo reference number indicato sul sito in alternativa se abbiamo già dei fondi disponibili su Coinbase possiamo importarli direttamente su GDAX senza spese aggiuntive bene ora inseriamo il nostro primo ordine clicchiamo su limit quindi buy per inserire un ordine di acquisto e dopodiché immettiamo il limit price ovvero il prezzo al quale siamo interessati ad acquistare criptovaluta clicchiamo quindi sul nostro bilancio in euro per compilare il form e clicchiamo infine su place buy order per inserire effettivamente il nostro ordine al prezzo indicato una volta cliccato il pulsante vedremo che il nostro ordine compare qui sotto nella lista di quelli in attesa se lo desideriamo possiamo anche annullarlo bene da zanediturbola.it è tutto ci vediamo al prossimo video ciao